Cari amici, pace e bene, sono ancora qui, a tutti voi, quelli dell'Amsas, quei missionari, quelli di Capoverde, i frati là, i frati qui, dappertutto, voglio davvero augurare una Pasqua santa, piena di Dio, piena di tutto, ma anche piena di Dio, che risorge con noi e per noi. Se l'ho dato Gesù.